Ministri, autorità, rappresentanti e lenti preposti all'internazionalizzazione, rappresentanti, anzi protagonisti del sistema produttivo, sono lieto di intervenire con questo videomessaggio all'odienna riunione della cabina di regia per l'internazionalizzazione, copreseduta dai ministri Di Maio e Patuanelli. Il fatto che dalle cabine di regia sia giunta la sua nonna a riunione annuale dalla sua fondazione, così come il ritmo sempre più intenso delle iniziative e degli incontri di alto livello dedicati agli ultimi mesi al tema del sostegno e della promozione dell'export italiano, sono esempi tangibili che il Paese sta remando in un'unica direzione nel quadro della più ampia strategia del Governo per il rilancio economico del Paese. Ricordo in particolare che insieme al ministro Di Maio ho aperto a settembre la tappa di Roma del road show nelle varie regioni italiane per presentare alle imprese dei nostri territori il patto per l'export. Da quel giorno molte cose sono cambiate, le nuove sfide e opportunità che da allora si sono presentate sono state raccolte con prontezza e anche con entusiasmo da tutti gli attori pubblici di supporto all'export. Il perseguimento di una prosperità condivisa e inclusiva per la nostra società richiede del resto, oggi più che mai, una corresponsabilizzazione costante di tutti gli attori oggi qui presenti. Questa considerazione è ancora più valida per chi come voi si occupa dell'export. È un settore questo che inevitabilmente ha risentito e continuerà anche a risentire della contrazione dell'economia mondiale legata alla pandemia, ma che resta al contempo uno dei principali motori di crescita in Italia anche nei momenti di minore dinamismo del nostro prodotto interno lordo. Io sono convinto che la riunione odierna sancirà importanti obiettivi, che le nostre imprese potranno perseguire contando su strumenti per l'internazionalizzazione nuovi e rafforzati e sul robusto investimento sul digitale, con il fine comune e condiviso di continuare a rendere Made in Italy un emblema di eccellenza, di bello, di ben fatto, che è conosciuto in tutto il mondo. Auspico vivamente che nel graduale ritorno alla normalità tutte le attività preposte in sede di cabina di regia per il 2021 possano essere realizzate e possano dare anche i frutti sperati. Penso per esempio alle missioni politiche e imprenditoriali all'estero, incluse quelle in cui io stesso potrò dare un impulso alla riapertura delle fiere internazionali, all'organizzazione dei business fora. Ma intanto molto più si può fare già adesso, attraverso un più ampio e incisivo ricorso allo strumento digitale, come sta già avvenendo con l'attivazione di nuovi prodotti e piattaforme digitali, quale l'ebook, il portale export.gov.it, la piattaforma Fiere 365 o quella anche infomercati esteri. Come sapete nel 2021 l'Italia sarà sotto i riflettori mondiali per diverse ragioni, quale il Global Health Summit, si terrà il 21 maggio a Roma il prossimo 21 maggio 2021, il partenariato con il Regno Unito per la COP26, ma soprattutto la presidenza del G20. In quest'ambito in particolare intendiamo guardare oltre l'emergenza, incentrando il nostro programma di lavoro su tre pilastri, persone, pianeta, prosperità. Vogliamo favorire una ripresa e una ricostruzione sostenibile e inclusiva, promuovendo una società più equa, un pianeta più pulito e più sano, nella convinzione che si tratti di due elementi essenziali fortemente complementari di sviluppo. Ed è in questo quadro complessivo che si colloca l'azione istituzionale del sostegno a Made in Italy e alla ripresa economica in un ambiente più prospero per noi ma anche per i nostri figli. Il vostro lavoro giunge quindi in un momento cruciale, in cui vi esorto a guardare al futuro con spirito di resilienza e soprattutto con volontà di continuare a progettare quello che verrà. Colgo dunque l'occasione dell'evento di oggi per ringraziare il Ministro Di Maio, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, oltre a tutti i presenti, per il lavoro svolto ma anche per quanto continuerete a fare con passione e con tenacia nei prossimi mesi. Grazie e buon lavoro a tutti.